Musica Anche quest'anno l'associazione Alauda ritorna con gli eventi di incontrarsi in tenuta. Saranno tre e saranno sviluppati nel mese di luglio con il nuovo team di Alauda. Il primo sarà il 4 luglio alle ore 21. Chi ci sarà? Avremo con noi tre musicisti d'eccezione Adolfo Lavolpe, Maria Luisa Capurso e Francesco Massaro che ci presenteranno il loro nuovo progetto musicale I giorni dello stupore. Alla conclusione di ogni evento ci sarà un piccolo rinfresco con la cucina di Nicla. Vi aspettiamo nella tenuta imperatore delle cantine imperatore nella splendida campagna del Fiese e mi raccomando Prenotazione obbligatoria. Ritrovate tutte le info sulle nostre pagine di eventi, Facebook e anche sul nostro sito. E per il momento vi diciamo... Ciao! Ciao! Ciao!